Che cosa? Guardate che figata questi braceri! Ehi, mamma! Chi è? Che cos'è? Dove siamo? Da Hub! A Da Hub! Noi siamo in attesa, amico! Noi siamo in attesa! Aaaaaah! Mi prende da sola la piccolina! Ciao! Ma adesso quella che stava in vicinese è cazzotto che gli ha dato a quella cazzotta!